La partocina di Fortinfissi Perugia inizia a serrare i ranghi in vista della partenza del campionato di A2 che cade nel prossimo fine settimana, precisamente nel pomeriggio di domenica 8 ottobre quando le Black Angels sospiteranno al Palo Barton alla banca Valsabina Brescia per una sfida che ha già il sapore di Big Match Ma prima c'è un ultimo importante test da sostenere Sabato 30 settembre, infatti le ragazze di Coach Giovi saranno in campo a Palazzo Uanni per affrontare la formazione di Serie 1 dell'Azzurra Volley Firenze Sul Taraflex Fiorentino la partocina ritroverà due ex la schiacciatrice Alexandra Lasic a Perugia nella scorsa annata e la palleggiatrice Beatrice Agrifoglio che ha giocato in Umbria nella stagione 2020-2021 Giovi in tale occasione potrebbe fare le prove generali per la prima di campionato mandando in campo il sestetto titolare che al netto di poche modifiche potrebbe essere poi riproposto anche contro Brescia Intanto, con un video emozionale sui social, la società ha fatto partire la campagna abbonamenti We Are All Black Angels I prezzi sono popolari, per assistere alle gare casalinghe si può sottoscrivere l'abbonamento sia online sia recandosi presso il Palabarton e pagare 50 euro per poter riservare un posto in gradinata, curva o distinti Grazie! 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 Grazie!